Ciao, sono Lettano Fontana. Volevo raccontarti una storia. In questi giorni ho voluto regalare una palla ad un bambino. Solitamente quando si regala una palla ad un bambino le reazioni sono quasi le stesse. Il suo viso si è illuminato di gioia. Allora ho voluto chiudere gli occhi per capire le sensazioni che stava provando questo bambino. C'è un particolare. Questo bambino non vedeva e quindi stava anche su una sedia a rotelle. Ma chi lo accompagnava non vedeva la sedia. Vedeva solamente un bambino che aveva bisogno di soddisfare il suo sogno, di realizzare il suo sogno. Allora a un certo punto ho sentito dei suoni. Ho sentito dei suoni che provenivano da una palla. Allora ho chiesto che cosa fosse e questo bambino mi rispose, sai io la palla non la posso vedere ma la posso sentire. Se ti va possiamo giocare insieme. Questo non è un semplice racconto. È la storia vera perché a me è capitato di ricevere un invito del genere e di giocare con dei bambini non vedenti. Ho voluto quindi annullare uno dei cinque sensi, annullare il senso della vista e provare di vivere come vivono i non vedenti il loro mondo ed è stata una delle esperienze più importanti della mia vita. La vita a me è stata fin troppo generosa perché ho vissuto di sport, ho fatto sport e ho vissuto momenti di amore, momenti di passione e sono stati momenti altamente gratificanti. Credo che sostanzialmente lo sport sia questo, sia aggregazione, sia passione, sia amore. Il mio invito non è solamente quello di farti gli auguri per un sereno Natale o per avere delle gratificazioni future a partire da questo nuovo anno che sta arrivando. Il mio augurio, il mio invito è quello che tu possa fare un'esperienza del genere e vivere di queste emozioni che sono altamente appaganti e gratificanti. Buon Natale.